Musica Buonasera a tutti, saluti a tutti, una bella giornata di sporto nel nostro comune all'insegna di quello che non è soltanto portatore di benessere fisico e psicofisico ma è soprattutto portatore di benessere di valori umani positivi Soveria quest'oggi vuole onorare la memoria di un nostro valoroso concittadino che è stato un rappresentante della Garibaldina la nostra squadra del cuore che ha rappresentato la gioia e le pene di tante giornate nostre di quando eravamo giovani, di quando eravamo bambini, da sempre la Garibaldina è stata nel nostro cuore e continuerà ad esserlo con questa intestazione, con l'intestazione della tribuna dello stadio comunale Antonio Leo abbiamo inteso rendere onore ad Angelo Colosimo che oltre che a essere stato portiere della squadra è stato anche allenatore successivamente Angelo che ha lasciato un grande ricordo di sé che è stata una persona che ha dato tutto se stesso per lo sport e per la Garibaldina resterà per sempre su questa tribuna spero ad assistere la sua squadra nei momenti difficili e soprattutto applaudirla quando farà bene, quando vincerà i campionati e siamo sicuri che la Garibaldina vincerà ancora tanti campionati per finire vorrei fare i complimenti alla squadra, al suo presidente, al suo allenatore per il bellissimo risultato raggiunto anche in condizioni di estremo disagio buona serata